Mi chiamo Umir Shah, vengo dal Pakistan, sono arrivato in Italia da un anno, ho lavorato come grafico in Pakistan per tre anni, parlo italiano poco, poco inglese, so parlo usare il Photoshop molto bene, mi piace ascoltare la musica, studiare italiano, giocare al calcio. In Italia vorrei una bella vita, avere amici, trovare un lavoro, mi piace provare il lavoro come tecnico di Campucho.